La nostra importantissima gara le odi in tirani della magia con la categoria carta magia è la volta di una busta nato in Canada, è cresciuto a Singapore poi è andato in la nera e adesso è un giro a mondo, si chiamano Sì, Lì Allora, and here you go A 1, a 2, a 1, 2, 3 A 1, a 3, adoro�� Grazie a tutti.